E ragazzi, come va? Io sono FieriNiki E io sono Stef, che si chiama Gmod E oggi siamo qui con un nuovissimo propante in una bellissima mappa di Spongebob in compagnia di Lion e Anna Esattamente, abbiamo praticamente tutta la cittadina di Spongebob a nostra disposizione Siamo con le skin di Spongebob, ci sono dei prop ovunque davvero davvero carini E dovremo nasconderci, ci sono parecchi nascondigli ma non troppi Più che altro è grande la mappa e di conseguenza bisogna controllare tanti posti I team questa volta, credo che sia per la prima volta, sono io con Anna e Fere con Lion Scrivete nei commenti secondo voi chi vince perché sono curioso di vedere chi trovate come team migliore tra i due Anna, andiamo, dobbiamo trovarli Hanno parlato di cose giganti, vero? Esatto, esatto Abbiamo detto cose più grosse, non giganti Allora, cosa c'è di gigante scusate? Forse le scatole? Ci sono tante cose giganti Il barile Quindi Steph è completamente dalla parte sbagliata comunque, questo dovrebbe essere Ok, quindi io no Io non mi fido, io e Anna non mi fido, secondo me sono partiti i trollerini in questo round Quindi ignorerò tutte le cose che loro dicono È possibile Ignorerò tutto quello che loro dicono, quindi adesso controllo queste belle cose Ma si può essere anche questa cosa? Due minuti e mezzo passano in fretta Eh sì Steph, dovresti iniziare a muovere Me lo gestisco io il mio tempo, ok? Sì sì Fate fare a me, ci penso io, so come fare Mi domando una cosa Dimmi Ma secondo te si può arrivare anche sopra? Se capisci cosa intendo? Eh Ho capito dove stanno Penso di sì, eh Davvero Anna? Cioè se ho capito bene penso di sì E vabbè! Ti ha trovato! Però non è giusto, questa Spongebob è entrata in cucina e ha iniziato a prendere ammazzate tutti i panini Com'è che non sei morta, scusa? Ma davvero? Perché avevo ancora tanta vita Ma non vale così! No no, vale caro mio Cioè è entrata, ha sbattuto tutte le bottiglie, ha fatto un disastro, smettila! E infatti ho sentito dei rumori molto brutti, molto molto brutti E io non ci ho capito nulla in surround In mezzo a tutti i panini in terra Ma ma scusate Anna, ma tu prende... Ma com'è possibile prendevi ammazzate tutto quanto? Toglie tre di vita ogni colpo È molto poco Perché credo che sia un errore da poco quando colpisci un oggetto piccolo Un errore grosso quando colpisci un oggetto di grosso Allora vai, nascondetevi, vai, tocca a voi No, mi sembra il contrario invece Anna Non lo so Trasformati e seguimi, ho visto prima un posto che sembra interessante Sì Vieni, 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 vieni Te lo dì, tanto guarda, noi ora sappiamo Perché loro non sa, noi sappiamo Però sai che potrebbero filarsi anche in qualche condotto strano Eh lo so, magari qualcosa che ancora non abbiamo visto, quindi Non funziona Però anche devo dire che Anna all'inizio ha sollevato tutti i panini tranne il mio La prima volta che è passata lì, è stato molto divertente Vivere in difficoltà Ma se abbiamo appena iniziato Ma stai zitto, ma che difficoltà È già passato un minuto e venti Ma non è vero Ma Anna, tu sei ferma come penso? Sì Ok È molto divertente Sono qualcosa di stra... Sarebbe funzioni Lo spero anche io vivamente Non lo so Fere, io non... Non lo so Siamo vicini a loro perché sono zozzosi Sì, ok Però non... È perché è pieno di oggetti Cioè, sono tantissimi Secondo me ci sta di dare qualche indizio Eh certo, noi non abbiamo dato niente È perché non li avete chiesti Eh, no, 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 caro mio Dal prossimo round ci saranno tutti gli indizi che vuoi No, 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 no No? Ho chiesto adesso, quindi se tu me lo neghi te lo negherò anch'io dopo Ok, allora me lo negherai dopo Benissimo, allora non ci vogliamo più bene Ma non litigate per gli indizi Quindi, come va da queste parti? Eh, non bene, devo dire Perché ci sono un sacco di condotti Mi sta sorseggiando una bibita Mentre aspetto che mi trovate Ti dico una cosa, Lion, però Visto che hai chiesto un indizio Te lo voglio dare ma giusto... Che ti sono passato vicino lo so Ok, bravo Perché avete riso come dei cipischiati E anche l'Anda Però io, io allora non so bene dove sono No, Ferre, tu sei totalmente... Ebbè, perché siamo in zone diverse, certo Sono dalle parti dei condotti Beh? Ok No Se sono qua E va, vai, vai, vai a cercare dei condotti Vai, vai C'è uno qua Due minuti e venti, cari Senti, eh Ma è davvero difficilissima comunque questa mappa Perché è gigante? Perché è davvero gigante È enorme e piena di prop, quindi è impossibile Siete nel classic club? Ferre è nella zona giusta, dai Così almeno magari avete qualche chance Sono nella zona delle casette Io poi, per di più, non so quanto sono gliciato Allora, c'è Lion Hai sentito che ha detto, Ferre? No, Lion, vieni un attimo qua Ti sembra normale questo hamburger sotto il furgone? No, ammazzalo, è sicuro lui Vero, vero, eccolo, guardalo lì Guarda come scappa Aspetta, aspetta Eh Non si crede Era Anna? No, ero io Eri tu? Ero io Ok È perché ti metti uguali a me Sei flipato, non rompete le scatte Voleva fregarci Quindi Anna, dove era, Ferre? Dov'era? Vediamo quanto era in legato Qui sotto Che schifo Meno male che almeno non hanno visto ad Anna, guarda Quindi Anna è in zona Anna è in zona Anna si è gliciata un po' meglio di me Eppure Ma non vale gliciarsi Sì che vale Fammi pensare Quindi qualche posto Forse questa barchetta Qui in zona Ma co Come è successo? Niente, niente Anna Anna al raffreddore Aiuto Anna Sangue freddo Mancano solo 50 secondi E qua Forza Anna Forza L'hai trovata Ma non ci posso prendere Ma davvero? Che schifo E vabbè Si è nascosta bene Ma che bello È avile È avile Però era un bel nascondiglio Era un bel nascondiglio Dai c'è da mettere Non era come quello di quell'altro maledetto Ci siete passati Sotto i furgoncini E intanto siete passati davanti a uno SpongeBob Che non ha cambiato skin Intanto vi abbiamo trovato E zitto Ti do degli indizi Ok Allora sono Un oggetto Che si mangia Ok Va bene Va bene Quindi qualcosa di come stile Sì però non è male Anna è stato comunque gentile Dai Tuttavia Sono un oggetto Che non vorresti mangiare Questo è difficile però eh Allora Secondo me è la verdura Secondo me questo schifo qui Ecco qua Ma che schifo Hai trovato Anna Piuttosto Ho già trovato una coppetta piena di schifo Sono davvero quello Cambio Ok Ma Anna ti capisce subito Cioè Anna ti capisce al volo È impossibile È questa Ok Allora bisogna trovarne un'altra nascosta Non mi fido di te Te lo dico io Ogni volta che parli Non ti ascolto Perché non mi fido Non mi fido E invece io ti sto dicendo cose gentili Oh non ci siete No dove siete Ma siamo nella stessa mappa Ok Una è andata No Feriniche Eh mi ha trovato E allora io faccio il cattivo Mi hai provocato Bene Ma chi ti ha provocato Comunque perché Mi hai ucciso il compare E allora ne so io Perché ti uccidi solo con un colpo Perché ho messo il fucile a pompa Fere Ah sei cattivissimo Eh sì che sono cattivo Secondo te Non me lo aspettavo Ho voglia di inseguirti per due ore Pensavo di poter scappare Invece mi ha fregato Eh sono andato sul sicuro Un minuto e trenta Anna Forza forza che lo troviamo Ma io l'ho visto prima venire qui Ma non trovo quello schifo di Ehi Sono un piatto vegetariano Ma sei sempre quel piatto schifoso Allora Sì 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 è rimasto quel piatto Cioè se sta mentendo non vale la sua vittoria No no è rimasto Allora io lo sto vedendo in questo momento È rimasto così Ve lo posso assicurare Posso guardare il tuo schermo No No perché vedi dov'è scusami Non guardare Lo so stavo scherzando Nel conto tre Uno magicamente sei stato zitto all'improvviso Quindi se vuoi scappare prova a scappare Ah aiuto Scappa Corri No Ma stavo guardando quelli Dovevi star fermo Stavo guardando gli altri È stato occidentale Non trovavo un posto E mi sono trovato È là io che continuo a sparare I fiori Mi assicuro Che sia morta Ok Devo resistere Quattro minuti da solo Mi giro e la vedo girarmi attorno È stato bellissimo Che potevate dargli I dieci secondini in più Eh Diciamocelo Diciamocelo Andiamo Cioè Oh Va bene va bene va bene Sei tu che mi hai fatto andare Quindi dovevi assicurarti Che anche Anna Si fosse Ho fatto un nascondiglio cattivo Per vendicare Anna Vediamo un po' Se riuscite a trovarmi Ok allora analizziamo le cose gradualmente Dovrebbe essere Se lo conosco In un posto che non abbiamo mai visto prima Ah Perché mi piace Furbo Vedi vedi Lion si vede che mi conosce bene Sì Come mi capisce lui Non mi capisce nessuno Secondo me si L'ho ammazzato Ma dov'era Dov'era Oh mio dio è stato bellissimo Io ho provato a difendermi Cosa è successo Io non ho visto nulla Era un piore dietro una aiga Ma vabbè Però era in un posto Che era proprio Cioè Su quel posto c'era scritto Steph Ovviamente Perché era un piccolo buio Nascosto al bordo mappa Quindi Steph Io allora sono in un posto strano Perché sinceramente volevo fare una cosa Non sono riuscita a fare quella cosa Quindi per ansia Mi sono messa in un altro modo Capito Quindi diciamo che non mi è andata troppo bene Avete lì nascondigli da falliti insomma Eh sì Ma Così da falliti Che poi non lo so eh Perché se poi si vince Diciamo che va bene lo stesso E mancano solo due minuti Quindi non è che vi stia andando così bene Forse però è qua No non c'è Fuck Ma dai Che infame che sei Che schifo Stava dietro queste bamboline qua L'avevo Era un nascondiglio che avevo adocchiato due round fa Fere Eh Tu sai Cioè non vorrei dirlo Ma lo sai Che cosa Come che cosa Allora Sai di essere te stessa Sì Però non devi dire nulla No ma io pensavo che fosse uno svantà Che non ti fossi proppata Capito No 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 Lo so Invece no Però tanto ho capito Tanto non gli serve a nulla E dietro la barca Lion Che barca Tanto mancano dieci secondi Non ci arrivano lo stesso Perché sennò ti uccido io Te lo giuro Non ci arrivano Dietro la barchetta Ma perché faceva? Sì Puoi girarla la barchetta Ma Vabbè Era cattivo eh Era cattivo Io volevo mettermi sopra la barchetta Ma non sono riuscita a saltare Capito E poi ha detto anche Non è il nascondiglio che volevo Era Dove c'è questa barchetta Dietro Qui dietro Io pensavo Si bloccasse qui la mappa Invece si blocca qui Certo Certo A saperlo Quindi valevano un nascondiglio A tutti gli effetti Ho vinto E tu hai perso Va bene Va bene Allora diamoli qualche secondino in più Che ha fatto vedere il mio vecchio nascondiglio Quindi vai Steph Avvisaci quando sei pronto E non ci mettere troppo Va bene E aia Va bene non sono stato io eh Quindi Ma Ranna mi hai fatto spaventare Non mi aspettavo fossi davvero qua Dov'era comunque Era qui nei cunicoli Nascosto Io pensavo ci fosse Steph Ma Ranna non ti sei fai un nascondiglio buono Sì sì È veramente eccellente E questo è il primo di cui sono soddisfatto quest'oggi Ma è buggato No no O è intelligente No no è proprio Vale al 100% Ok Quindi avete tre minuti per vedere se riuscite a battermi Perché altrimenti mi prendo la vittoria che si è presa a fare E pareggiamo Non pareggiamo niente Eh Non pareggiamo nulla Vediamo No no avete vinto solo una volta Ma che pareggio No 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 Sì avete vinto solo una volta No 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 E quando hai vinto allora Riguarda Quando hai vinto Dopo riguarderai e vedrai Ma cosa Riguarderai e vedrai Guarda Secondo edito il video Hai vinto solo una volta Mettere una scritta che dice che sei un puzzone Eh basta che non tagli le altre Perché abbiamo vinto una volta Da nascosti Una volta da propers Voi no Ah Ma Io non mi ricordo Ma le vittorie contano solo dal nascosto Ma non vale vero Certo abbiamo vinto anche noi a cercarvi Non contano quelle Conta solo quando vinci Ma guarda dimmi te Cosa va a pensare Comunque mancano due minuti È già passato un altro minuto Vieni che devi ricordarci Lo sappiamo che ore sono Ti sei buggato No Non c'è nessun bug Però Ho notato che in certi posti Ci si può rampicare Quindi io ve l'ho buttata lì Giusto per Boh Dirla un po' così Diciamo un modo leggero Sei dentro il chambucket vero Dentro cos'è il chambucket scusami La cassa La cassa Va bene Vai Lion Spacca le casse Fere Aiuto È qua Fere Smettila di fare così Perché t'ho capito Fere ha capito Come prima Quando ero andato nella caverna Dove volevo andare io prima Ah beh sì Può aver senso Eh ma Lion è furbo Oh no Anche io Oh mi hanno trovato Ma non è vero Io sto sopra Eh sono nel posto giusto Ma non hanno ancora capito il punto preciso Fere Ma se sono davvero nel punto giusto No ovviamente O mi prendi in giro No no vi sto prendendo in giro Sono totalmente dall'altra parte della mappa Sì infatti Avete 30 secondi Ma come ma è l'unico posto dove si può Dove si può Infatti io non mi sono arrampicato Ma tu l'hai detto Eh io ho detto che era potenzialmente Un nascondiglio dove mi sono arrampicato Ma non mi sono arrampicato Stai dicendo cose che non sono vere Eh sì Eh sì Eh sì Ma non vale Sono da solo Non posso far altro che mentire con le mie parole per vincere Ma che schifo E nemmeno ci sarà il png col troll nella mia webcam No non è un troll Queste bugie sono Sì Lo intitolo troll Vai Lo intitolo bugiardo Comunque Avete presente lo spawn? Cioè voi siete nati proprio in mezzo a un posto Io non ce l'ho presente Eh vabbè comunque stavo dietro di voi Ero quella piantina Quello funghetto E stavo qui Spero che se non ci vedete Lasciateci un like E se neanche una volta che avete il nostro video Potete considerare il video Iscrivervi per non perdervi gli altri video Ciao e alla prossima Ciao ciao